Al termine di queste parole aggiungiamo un pensiero questa sera e anche domattina lo faremo nella messa in unione con la Chiesa di Genova per i nostri fratelli che hanno perduto la vita, mentre noi festeggiamo c'è qualcuno che piange, qualcuno che non ha più la casa, qualcuno che soffre. Vogliamo essere loro vicini non solo così con i pensieri ma anche con la preghiera che Agapito interceda per noi e anche per loro e per tutti coloro che in questo momento soffrono e piangono. Amen.